una mattina il vecchio topo di fogna sporse la testa fuori della tana aveva gli occhietti acuti scintillanti due ispi di baffi e una lunga coda nera che sembrava di gomma e lo stagno gli anatroccoli gialli come canarini nuotavano qua e là e mamma anatra che aveva le piume di un candore abbagliante e le zampe di un bel rosso vivo insegnava loro a tenersi con la testa alta dell'acqua non potete mai entrare nella buona società se non imparerete a stare ritti sulla testa seguitava a ripetere ai suoi bambini e di tanto in tanto mostrava loro come dovevano fare ma gli anatroccoli non le davano retta erano così giovani che non avevano la minima idea del vantaggio che si può avere a frequentare la buona società che bambini disobbedienti gridò il vecchio topo di fogna meriterebbero proprio di morire annegati e anche per sogno ribattì la mamma anatra tutti devono imparare e bisogna che i genitori si armino di una grande pazienza io non so nulla di quel che provano i genitori disse il topo di fogna personalmente non sono un tipo adatto a metter su famiglia infatti non mi sono mai sposato e me ne guardo bene dal farlo l'amore a modo suo è una bellissima cosa ma l'amicizia è molto superiore frantemente trovo che non esiste niente al mondo che sia più nobile o più prezioso di un'amicizia devota per favore vuoi dirmi qual è il tuo punto di vista circa i doveri di un amico devoto gli domandò un fanello verde che era rimasto appollaiato su un salice lì vicino e aveva inteso la conversazione già anche a me piacerebbe saperlo disse l'anatra e nuotò sino all'estremità opposta dello stagno e si mise sulla testa onde dare ai suoi bambini un buon esempio che domanda stupida esclamò il topo di fogna pretenderai che il mio amico devoto fosse devoto a me si capisce e tu che cosa gli daresti in cambio domandò l'uccellino dondolandosi su un ramo argentio e battendo le sue minuscole ali non ti capisco rispose il topo di fogna se permetti ti racconterò una storia in proposito disse il fanello è una storia che riguarda me chiese il topo di fogna in questo caso l'ascolterò volentieri perché i racconti immaginari mi piacciono moltissimo si può adattarla al caso tuo replicò il fanello e volò giù e posandosi sulla sponda dello stagno raccontò la storia dell'amico devoto c'era una volta incominciò il fanello un bravo omino che si chiamava hans era una persona distinta chiese il topo di fogna no rispose il fanello credo anzi che non fosse affatto distinto tranne che per il suo buon cuore e per la sua buffa faccia tonda e sempre di buon umore abitava in una casettina piccina piccina tutto per conto suo e ogni giorno lavorava nel suo giardino in tutta la contrada non esisteva un giardino bello come il suo vi crescevano garofanetti selvatici e violaciocche borse da pastore e belle di francia rose di damasco e rose gialle crochi color gridellino e oro viole bianche e porporine acquilege e mantelli di dama la maggiorana e il basilico selvatico la primula e il fiordaliso la sfodelo e i chiodi di garofano vi sbocciavano fiorivano nel giusto ordine a secondo dell'avvicendarsi dei mesi ogni fiore prendendo il posto di un altro fiore cosicché vi erano sempre cose belle da vedere e grati profumi da odorare il piccolo hans aveva moltissimi amici ma di tutti il suo amico più affezionato era il grosso hug il mugnaio il ricco mugnaio infatti era talmente affezionato al piccolo hans che non osava passare mai dal giardino di questi senza sporgersi oltre il muro di cinta e cogliere un gran mazzo di fiori o una manciata di erbe aromatiche oppure senza riempirsi le tasche di susina e di ciliegie se era la stagione delle frutta i veri amici devono aver tutto in comune soleva dire il mugnaio e il piccolo hans faceva cenno di sì col capo e sorrideva e si sentiva molto orgoglioso di avere un amico di idee tanto nobili talvolta a dire il vero i vicini trovavano strano che il ricco mugnaio non desse mai nulla in cambio al piccolo hans benché nel suo mulino avesse riposti più di cento sacchi di farina e possedesse sei mucche da latte e un grande greggio di pecore lanose ma hans non si tormentava mai il cervello con problemi di questo genere e nulla gli dava maggior piacere che ascoltare tutte le cose meravigliose che il mugnaio soleva narrare intorno al disinteresse e all'altruismo della vera amicizia così il piccolo hans lavorava di lena nel suo giardino durante la primavera l'estate l'autunno era felice e contento ma quando veniva l'inverno e non aveva né fiori né frutta da portare al mercato allora soffriva parecchio per il freddo e la fame e spesso era costretto ad andare a letto avendo mangiato per tutta cena soltanto qualche pera secca o un pugno di noci dure l'inverno poi era tutto solo poiché il mugnaio non si recava mai a fargli visita è proprio inutile che io vada a trovare il piccolo hans fin quando dura la neve soleva dire il mugnaio alla moglie perché quando la gente è nei guai è molto meglio lasciarla in pace senza seccarlo e con le visite questo almeno è il mio punto di vista dell'amicizia e sono sicuro di essere nel giusto perciò aspetterò che arrivi la primavera allora andrò a trovarlo e lui sarà in grado di darmi un grosso cesto di primule e questo gli farà tanto piacere come ti preoccupi per gli altri gli rispondeva la moglie seduta in un'ampia e comoda poltrona presso il gran fuoco di legna di pino davvero non fai che pensare al tuo prossimo è una vera festa sentirti parlare sono convinta che nemmeno il pastore saprebbe dire cose più belle di te e sì che abita in una casa di tre piani e porta al dito miglioro un anello d'oro ma non potremmo invitare il piccolo hans qui a casa nostra disse un giorno il figlio minore del mugnaio se il povero hans è nei guai io potrei dargli metà della mia zuppa d'avena e potrei mostrargli i miei conigli bianchi che ragazzo sciocco sei gridò il mugnaio non so proprio a che cosa serva mandarti a scuola mi sembra davvero che non ti insegni non bel nulla perbacco se il piccolo hans venisse qui e vedesse il nostro camino caldo e la nostra buona cena e la nostra grossa botte di vino rosso potrebbe diventare invidioso ora l'invidia è un difetto orribile che guasterebbe il carattere di chiunque mentre io non permetterò mai che il carattere di hans si guasti sono il suo migliore amico e avrò continuamente cura di lui e starò bene attento a che non cada in tentazioni di nessun genere del resto se hans venisse qui potrebbe chiedermi di dargli della farina a credito cose che non potrei assolutamente fare perché la farina è una cosa preziosa e l'amicizia è un'altra e non bisogna confonderle perbacco sono due parole che si pronunciano in modo completamente diverso e significano due cose diversissime lo capirebbe chiunque come parli bene disse la moglie del mugnaio versandoci un gran bicchiere di vino caldo mi sento tutta piena di sonno è proprio come essere in chiesa un sacco di gente agisce bene replicò il mugnaio ma pochissima parla bene il che dimostra come parlare sia delle due la cosa assai più difficile e la più bella per giunta e lanciò dall'altra parte della tavola un'occhiataccia severa al suo bambino il quale provò tanta vergogna di quel che aveva osato dire che chinò il mento sul petto e si fece rosso rosso in viso e si mise a piangere dentro la sua tazza del tè comunque era tanto piccolo che dovete scusarlo la storia finisce qui domandò a questo punto il topo di fogna ma no ribatte il fanello questo non è che il principio allora tu sei molto indietro coi tempi osservò il topo di fogna ogni canto storie che si rispetta oggigiorno comincia dalla fine poi ritorna al principio e conclude con la metà questo è il nuovo metodo ho imperato ogni cosa in proposito l'altro giorno da un critico che passeggiava attorno allo stagno in compagnia di un giovanotto trattò l'argomento a lungo e sono sicuro che doveva aver ragione poiché era calvo e portava un paio di occhiali scuri e ogni volta che il giovanotto faceva un'osservazione il critico rispondeva inevitabilmente ma continua il tuo racconto ti prego perché il mugnaio mi piace immensamente ho anch'io una gran quantità di sentimenti bellissimi perciò tranne lui esiste una profonda affinità e dunque dunque riprese il fanello saltellando ora su una zampetta ora sull'altra non appena l'inverno ebbe fine e le primule incominciarono a schiudere le loro pallide stelle gialle il mugnaio disse alla moglie che sarebbe andato a far visita al piccolo hans hai proprio un gran buon cuore esclamò la moglie tu pensi sempre agli altri e non dimenticare di portarti con te un grosso cesto per i fiori perciò il mugnaio legò insieme le pale del suo mulino a vento con una solida catena di ferro e scese giù per la collina con il paniere sottobraccio buongiorno piccolo hans disse il mugnaio buongiorno rispose hans appoggiandosi sulla sua vanga con un sorgiso che gli fendeva la faccia da un orecchio all'altro come te la sei passata quest'inverno gli chiese il mugnaio ecco scramò il piccolo hans è molto buono a domandarmelo molto buono davvero purtroppo temo di aver passato dei momenti un po' difficili ma adesso è venuta la primavera e io sono tanto contento perché i miei fiori promettono benissimo abbiamo parlato spesso di te quest'inverno hans disse il mugnaio e ci siamo chiesti tante volte come stavi questo è stato veramente molto carino da parte vostra rispose hans avevo una mezza paura che vi foste dimenticati di me hans mi meraviglio di te scramò il mugnaio l'amicizia non dimentica mai questo è il suo indescrivibile pregio ma temo tu non comprenda la poesia della vita a proposito come sono belle le tue primule sì sono proprio belline davvero ripito hans ed è una vera fortuna per me averne tante ho intenzione di portarle al mercato e di venderle alla figlia del borgomastro così col denaro che ne ricaverò potrò ricomprarmi la mia carriola ricomprarti la tua carriola non vorrei mica farmi credere che l'hai venduta che stupidaggine non hai commessa ecco il fatto è gli spiegò hans che sono stato costretto a venderla capisci l'inverno è stato per me un periodo molto duro e non avevo nemmeno soldi a sufficienza per comprarmi del pane così da principio ho venduto i bottoni d'argento del mio vestito della festa poi ho venduto la mia catena d'argento poi ho venduto la mia grossa pipa e infine ho venduto la mia caviola ma adesso poco a poco gli scatterò tutte le mie cose hans disse il mugnaio ci darò io la mia carriola non è in gran buono stato per dire la verità ha tutto un fianco che non esiste più e c'è qualcosa che non va coi mozzi delle ruote ma nonostante ciò te la darò lo stesso lo so che è un gesto molto generoso da parte mia e molta gente mi giudicherà pazzo a separarmene ma io non sono come gli altri io ritengo che la generosità sia l'essenza dell'amicizia e d'altronde per me mi sono già comperato una carriola nuova sì sì metti pure il cuore in pace ti darò la mia carriola oh grazie come sei generoso esclamò il piccolo hans e la sua buffa faccia rotonda luccicò tutta di gioia aggiusterà facilmente poiché ho giusto un asse di legno in casa asse di legno esclamò il mugnaio ma è proprio quel che mi occorre per il tetto del mio granaio ci si è fatto dentro un gran buco il grano mi si bagnerà tutto se non l'aggiusto al più presto è una vera fortuna che tu ne abbia parlato è proprio vero che una buona azione ne genera sempre un'altra io ti ho dato la mia carriola e adesso tu mi darai la tua asse naturalmente la carriola vale molto più dell'asse ma la vera amicizia non bada mai a queste cose ti prego vammela prendere subito così potrò mettermi a riparare il mio granaio oggi stesso certamente gridò il piccolo hans e corse nella rimessa e ne tirò fuori l'asse non è un asse molto grande disse il mugnaio dopo averla ben osservata e ho paura che dopo che avrò aggiustato il tetto del mio granaio non ne resterà più per rabberciare la carriola ma naturalmente questo non è colpa mia e adesso dal momento che ti ho data la mia carriola non dubito che vorrei darmi un po di fiori in cambio eccoti il paniere e fa bene attenzione di riempirlo tutto proprio tutto domandò il piccolo hans con un certo rincrescimento perché si trattava effettivamente di un paniere di una grandezza eccezionale ed egli sapeva che quando lo avesse riempito fino all'orlo come voleva il mugnaio non ci sarebbero rimasti più altri fiori da portare al mercato mentre aveva tanta fretta di riscattare i suoi bottoni d'argento e beh francamente rispose il mugnaio dal momento che ti ho dato la mia carriola non credo sia eccessivo da parte mia chiederti quattro fiori forse sbaglierò ma io ritenevo che l'amicizia la vera amicizia fosse del tutto esente da qualsiasi forma di egoismo amico caro mio migliore amico esclamò il piccolo hans tutti i fiori del mio giardino sono tuoi preferisco avere la tua stima piuttosto che i miei bottoni d'argento in qualsiasi momento e corse a cogliere tutte le sue primule e ne riempì il paniere del mugnaio arrivederci piccolo hans gli disse il mugnaio e si avviò su per la collina con l'asse sulla spalla e il grosso cesto in mano arrivederci rispose il piccolo hans e incominciò a vangare allegramente era così contento della carriola il giorno seguente era intento a inchiodare lungo la parete del portico dei rami di caprifoglio quando intese la voce del mugnaio che lo chiamava dalla strada perciò si affrettò a scendere dalla scala a pioli su cui era appollaiato e corse in giardino e si sporse dal muro di cinta fuori sulla strada c'era il mugnaio con un grosso sacco di farina sul dorso caro piccolo hans gli disse il mugnaio non ti dispiacerebbe portarmi questo sacco di farina al mercato no mi spiace proprio tanto disse hans ma oggi sono talmente occupato ho da appendere tutti i miei rampicanti ed arrullare tutto il mio prato francamente ribatte il mugnaio trovo che se si pensa che io sto per darti la mia carriola è veramente scortese da parte tua dirmi di no non parlare così esgramò il piccolo hans non sai bene che non vorrai essere scortese con te per tutto l'oro del mondo e corse in casa a prendere il suo berretto e si allontanò faticosamente con il pesante sacco sulle spalle era una giornata torrida e la strada era terribilmente impolverata e prima di essere giunto alla sesta pietra miliare il povero hans si sentì talmente stanco che dovette sedersi per prendere fiato comunque riprese poi ad andare coraggiosamente finché infine arrivò al mercato dopo aver atteso per un certo tempo riuscì a vendere il sacco di farina a un ottimo prezzo e subito ritornò a casa poiché aveva paura che se si fosse fermato lungo la strada troppo a lungo avrebbe potuto correre il rischio di imbattersi in qualche banda di malfattori è stata una giornata francamente molto dura disse tra sé il piccolo hans mentre si preparava ad andare a dormire ma sono contento di non aver detto di no al mugnaio poiché il mio migliore amico per giunta mi darà la sua carriola il mattino seguente per tempo il mugnaio venne a ritirare il denaro del suo sacco di farina ma il piccolo hans si era talmente stancato che era rimasto a letto ma lo sai che sei un bel pigrone mi scramò il mugnaio francamente trovo che dal momento che io ti darò la mia carriola tu potresti lavorare di più la pigrizia è un peccato gravissimo e io non permetterò mai e poi mai che un mio amico sia ozioso o pigro non devi spiacerti se ti parlo con tanta franchezza naturalmente non mi sognerei di parlarti come ti parlo se non ti fossi amico ma a che serve l'amicizia se uno non può dire quel che pensa chiunque è capace di dire cose carine e di cercare di far piacere e di adulare ma un amico sincero dice sempre cose sgradevoli e non si preoccupa di arrecar dolore anzi se è un amico veramente sincero fa questo volentieri poiché sa che così facendo agisce bene scusami tanto disse il piccolo hans fregandosi gli occhi e togliendosi la berretta da notte ma ero talmente stanco che avevo pensato di starmene in letto ancora un pochino ad ascoltare gli uccelli cantare lo sai che lavoro sempre con maggior gusto ogni qual volta ascolto il canto degli uccelli beh mi fa piacere di sentire questo disse il mugnaio dandogli una pacca sulla schiena perché ho proprio bisogno che tu venga su al mulino non appena sarai vestito ad aggiustare il tetto del mio granaio un povero piccolo hans era tutto ansioso di andare ad accudire al suo giardino poiché da due giorni i suoi fiori non erano più stati innaffiati ma non osò dir di no al mugnaio era un così buon amico per lui credi che sarebbe scortese da parte mia se ti dicessi che ho da fare domandò con voce timida e sommessa beh francamente replicò il mugnaio non penso sia chiederti troppo dal momento che ti darò la mia carriola ma naturalmente se rifiuti me ne andrò e lo aggiusterò da me oh no 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 insiamò il piccolo hans e saltò giù dal letto e si vestì e andò nel granaio del mugnaio vi lavorò tutto il giorno sino all'ora del tramonto e al tramonto il mugnaio venne a vedere a che punto era hai finito di aggiustare il buco del tetto piccolo hans domandò il mugnaio con voce gioviale sì ho finito dispose il piccolo hans scendendo dalla scala a pioli ah felice il mugnaio non esiste lavoro più gradevole di quello compiuto per conto d'altri certo è un gran privilegio ascoltarti parlare dispose il piccolo hans sedendosi asciugandosi il sudore che gli colava dalla fronte proprio un gran privilegio ho paura però che io non riuscirò mai ad avere belle idee come te oh col tempo imparerai anche tu disse il mugnaio ma devi darti da fare per il momento tu possedi soltanto la pratica dell'amicizia ma a lungo andare ne apprenderai pure la teoria credi davvero che ci riuscirò chiese il piccolo hans non ne dubito mi rispose il mugnaio ma ora che mi hai riparato il tetto faresti meglio ad andare a casa a riposarti perché voglio che domani mattina tu mi conduca le mie pecore su in montagna il povero piccolo hans nell'udire ciò non ebbe il coraggio di ribattere nulla e l'indomani mattina per tempo il mugnaio condusse le sue pecore davanti alla casetta di hans e hans partì con le bestie su per la montagna mi ci volle tutta la giornata tra andare e tornare e al ritorno era talmente stanco che si addormentò sulla seggiola belle vestito com'era e non si svegliò finché non fu pieno giorno come me la godrò quest'oggi nel mio giardino si disse e corse subito a lavorare ma gira e volta non trovava mai il tempo di poter occuparsi dei suoi fiori perché il suo amico mugnaio lo veniva sempre a cercare per fargli fare lunghe commissioni o perché lo aiutasse al mulino a volte il piccolo hans si sentiva addirittura disperato poiché temeva che i suoi fiori avrebbero finito col pensare che egli li avesse dimenticati ma si consolava al pensiero che il mugnaio era il suo migliore amico e altronde soleva dirsi mi darà la sua carriola il che è un gesto di pura generosità così il piccolo hans lavorava di lena per il mugnaio e il mugnaio gli teneva lunghi e bellissimi discorsi intorno all'amicizia discorsi di cui hans prendeva appunti nel suo tacuino e che soleva rileggere la notte poiché era di temperamento studioso e amante del sapere ora accade che una sera il piccolo hans se ne stava seduto presso il suo focolare quando intese qualcuno che bussava violentamente alla porta era una notte infernale e il vento soffiava e rugiva attorno alla casa con tanta furia che a tutta prima pensò fosse la tempesta ma poi risuonò un secondo picchio e infine un terzo più forte degli altri due deve essere qualche povero viandante disse il piccolo hans e corse ad aprire invece era il mugnaio che in una mano teneva una lanterna e nell'altra un grosso bastone caro piccolo hans gli disse il mugnaio mi trovo in un grosso guaio il mio bambino è caduto dalla scala pioli e si è fatto male e devo andare dal dottore ma il dottore abita così lontano ed è una notte così brutta che mi è andassi tu invece mia lo sai che ho intenzione di darti la mia carriola perciò è giusto trovo che tu faccia qualcosa per me in cambio certo esclamò il piccolo hans sono anzi onorato che tu sia venuto a cercarmi mi metterò in strada subito però devi imprestarmi la tua lanterna perché è una notte tanto buia che ho paura di cadere nel fosso mi spiace molto gli rispose il mugnaio ma questa è la mia lanterna nuova e sarebbe per me una grande perdita se le capitasse qualcosa beh non importa farò senza vedò il piccolo hans e staccò dall'attaccapanni il suo pesante mantello di pelliccia e il suo caldo berretto rosso e si annodò una sciarpa al collo e si mise in cammino la tempesta fuori era semplicemente paurosa la nota era talmente nera che il piccolo hans riusciva a vederci appena e il vento soffiava con tanta violenza che a stento poteva reddersi in piedi il piccolo hans era molto coraggioso tuttavia e dopo aver camminato per quasi tre ore giunse alla casa del dottore e bussò all'uscio chi è gridò il dottore facendosi alla finestra della sua camera da letto sono il piccolo hans dottore ah che cosa vuoi piccolo hans il figlio del mugnaio è caduto dalla scala pioli e si è fatto male e il mugnaio vuole che lei vada subito da lui va bene disse il dottore ed è di ordine che gli sellassero il cavallo e si fece portare i suoi stivaloni e la sua lanterna e scese a basso e si avviò in direzione della casa del mugnaio col piccolo hans che gli veniva dietro balzelloni ma la tempesta presa in curiare sempre più minacciosa e il piccolo hans non riusciva a vedere dove andava né a stare a passo col cavallo alla fine sbarrì la strada e si perdette nella landa che era un luogo assai pericoloso perché era tutto disseminato di buche profonde e in una di queste il povero piccolo hans cadde e annegò il giorno dopo il suo cadavere fu ritrovato da alcuni caprai che galleggiava in una gran pozza d'acqua e costoro lo riportarono alla casetta tutti andarono al funerale del piccolo hans li volevano tutti bene e il mugnaio e il mugnaio funse da capo piagnone poiché ero il suo migliore amico disse il mugnaio è più che giusto che il posto migliore lo abbia io perciò marciò in testa alla processione vestuto in un lungo mantello nero e ogni tanto si asciugava gli occhi col suo fazzolettone da tasca certo la morte del piccolo hans è una gran perdita per tutti noi osservò il fabbro ferraio quando le sequie furono terminate si trovarono tutti quanti riuniti comodamente nella locanda intorno a boccali col medivino drogato e a un bel piatto di ciambelle dolci per me almeno è sicuramente una gran perdita replicò il mugnaio perbacco praticamente gli avevo ormai regalata la mia carriola e adesso non so proprio che farmene in casa mi ingombra ed è talmente in cattivo stato che anche se la vendessi non ricaverai nulla farò bene attenzione d'ora avanti a non dar più via niente che si rimette sempre ad essere generosi ebbene chiese il topo di fogna dopo una lunga pausa ma è finita rispose il fanello ma che cosa è successo del mugnaio disse il topo di fogna o proprio non so replicò il fanello e ti assicuro che non me ne importa come si vede che sei totalmente privo di senso di comprensione osservò il topo di fogna io invece temo che tu non abbia interamente compresa la morale della storia ribatte il fanello la che cosa urlò il topo di fogna la morale perché questa storia avrebbe una morale certamente disse il fanello beh francamente gli rispose il topo di fogna arrabbiatissimo trovo che avresti dovuto avvertirmene prima di incominciare poiché in tal caso puoi star sicuro che non sarei restato finora ad ascoltarti ma te avrei detto come il critico comunque te lo dico adesso infatti gridò con quanto fiato aveva in gola diede un colpo di coda e si infilò di nuovo nella sua tana che ne pensi del topo di fogna domandò l'anitra che era sopraggiunta di là a pochi minuti pagaiando con le zampe a spatola ha un sacco di buone qualità ma per parte mia dati i miei sentimenti di madre non riesco a guardare uno scapolo inveterato senza che gli occhi mi si vellino di lacrime ho una gran paura di averlo seccato murmurò il fanello il fatto è che gli ho raccontata una storia con la morale ah è sempre una cosa molto pericolosa raccontare una storia con la morale disse l'anitra e io sono completamente d'accordo con lei e